. Ivana Mrazova valletta di 90 special, ecco perché è stata scelta. Ivana Mrazova si svela, ecco perché sono stata scelta per 90 special e il mio portafortuna. . Dopo il grande fratello Vip, Ivana Mrazova tornerà sul piccolo scherzo nei panni della valletta. La modella cieca è infatti stata scelta per affiancare Nicola Savino e Katia Follesa nel nuovo programma tv di Italia 1 90 special. . La giovanissima ex concorrente del reality show di Canale 5 si vedrà protagonista di una trasmissione che ha come compito quello di celebrare il decennio in cui lei stessa è nata. . La Mrazova è infatti del 1992 e ha vissuto a pieno gli anni che Savino vuole cercare di ricordare ai telespettatori italiani. . Ivana è convinta che il pubblico si farà grandi risate, la sua è quasi una promessa. Al settimanale tv Sorrisi e Canzoni, la giovanissima ha rivelato il motivo per cui crede di essere stata scelta e non solo. . Ivana Mrazova dopo il grande fratello VIP, valletta di 90 special, ecco perché. Ivana Mrazova ha già vestito i panni di valletta, anche se nella sua precedente esperienza si trovava in un programma decisamente più formale, ovvero Sanremo. . A 90 special, la modella cieca non vestirà assolutamente abiti supereleganti. . La ragazza si presenterà in studio con degli outfit che ricordino a pieno gli anni 90, tutti rigorosamente consigliati dal mitico Cristiano Malgioglio. . . Anche il cantautore sarà infatti parte integrante della trasmissione nel ruolo di esperto insieme a Michele Cucuzza. . La Mrazova non comprende bene il motivo per cui sia stata scelta, anche se dichiara, forse mi hanno scelto come valletta perché non so nulla di quel periodo. . Tranne che il mio paese si era diviso in due, Repubblica Ceca e Slovacchia. . Ivana Mrazova ha 90 special con il collutorio, la rilevazione della modella. . Ivana viene ricordata soprattutto per la sua spontaneità e simpatia. . Nella casa del grande fratello Vip ha fatto parlare molto di sé anche per la vicenda del collutorio. . Nel corso delle puntate del lunedì sera, la modella sembrava avere il vizio di bere del collutorio, lo stesso che a quanto pare sarà presente anche nelle puntate di 90 special. . . Lo porterà anche nel programma di Savini. . È il mio portafortuna. Intanto, si continua a parlare della ragazza anche per la sua storia con Luca Onestini. . . . . . . . Ciao